Don Giancarlo Rapacini, parroco del Duomo di Sansepolcro. Ma sa che mi sono commosso perché praticamente questa processione di Gesù morto è caratterizzante per la nostra città e quindi è bello vedere tutti, anche quelli che magari non praticano, però si sentono quasi in dovere di venire a rendere omaggio a Gesù morto, come si rendessero conto che il Signore è morto proprio per tutti, anche per quelli che ci credono poco. Alfredo Milani, governatore della misericordia di Sansepolcro, una processione questa che torna a Sansepolcro dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, è questo un momento per la città di grande devozione, una partecipazione veramente imponente. Sì, è stata veramente emozionante questo rientro, questo aiuto di rientro alla normalità in questa Pasqua di resurrezione dove la città ha dimostrato ancora una volta di sapersi unire insieme per rinascere veramente. E sono orgoglioso anche che sia la nostra misericordia, accanto alla nostra misericordia, si sia riunita tutta la città. È stato bellissimo anche rivedere i quadri animati, i quadri delle stazioni animati dai bambini delle parrocchie che finalmente anche i bambini tornano, tornano a vivere. Sì, è stato bellissimo anche per la città.